Qual è il ruolo di Bain & Co. in questo progetto? Grazie innanzitutto, il ruolo di Bain & Co. è stato innanzitutto quello di coordinare e mettere insieme tutti quanti gli attori intorno al tavolo perché questo progetto nasce da una chiacchierata che feci tre anni fa ormai con Elisabetta Ripa, allora l'AD di Open Fiber io ero nell'azienda che poi è stata acquisita da Bain & Co. Pangea Formazione e la Ripa mi disse perché voi fate dei progetti di manutenzione predittiva come fisici, mi interesserebbe invece anche ampliare un po' le prospettive e le visioni di Open Fiber e ad esempio potrebbe essere utile monitorare i terremoti tramite fibre ottiche. Io rimasi un po' come la mucca che guarda il treno, nel senso che per me era una cosa completamente nuova sono fisico di formazione io, mia moglie è fisica anche lei e ha fatto una tesi di dottorato sulle fibre ottiche e ho chiesto, dico ma secondo te questa cosa come si può portare a terra ho iniziato a documentarmi parlando con amici fisici, ho avuto la fortuna di laurearmi a Roma 1 quindi l'universo della fisica in Italia non è particolarmente ampio e sono riuscito a intercettare l'articolo al quale si riferiva la dottoressa Ripa e questo è stato scritto sostanzialmente dalla tecnologia che stiamo utilizzando adesso è stata sviluppata anche dall'Indream di Torino il ricercatore ultimo firmatario è Davide Calonico che di fatto alla fine era un amico di un mio amico fisico quindi ho alzato il telefono e ho chiamato di cosa è interessato a portare a fare un progetto di questo genere e lui mi ha risposto subito affermativamente ci abbiamo messo un paio d'anni per partire dopodiché OpenFiber ha richiesto cosa ci facciamo noi con questi dati forse è il caso di validarli da un ente che poi possa utilizzarli e quindi abbiamo coinvolto sempre tramite la rete di conoscenze quindi con amici che stanno attualmente all'NGV mi hanno detto chi è che potrebbe essere interessato di questo e sono stato messo in contatto con Salvatore Stramondo che è il direttore dell'osservatorio dei terremoti della sala operativa dei terremoti e parlando con lui noi siamo estremamente interessati a dati su fibra ottica e a questo punto abbiamo svolto questa attività di comunicazione tra i vari enti e devo dire che questo progetto mi sembra particolarmente significativo perché mette insieme il privato e il pubblico nel senso degli enti di ricerca che mettono a disposizione le loro competenze al servizio anche della popolazione Quali sono le peculiarità della fibra in ambito di sismologia? Dunque arrivo poi a quello che è il ruolo di Bain & Company di fatto l'Indream ha le competenze per illuminare la fibra con dei sensori particolari che sono coerenti in fase e quindi si riesce a permettere appunto questo tipo di tecnologia tra l'altro mi fa piacere anche aggiungere il fatto che per tanto tempo il movimento di una fibra perturba il segnale che interessa l'Indream che fondamentalmente è interessato a mandare segnali orari molto precisi tra i vari laboratori di ricerca non so se vi ricordate anni fa c'è stato un esperimento che diventò molto famoso perché sembrava che si fossero visti dei neutrini superluminari e questa osservazione era stata fatta da laboratori di ricerca in diverse parti d'Europa quindi da Ginevra al Cerna e qui vicino al Gran Sasso e per fare questi esperimenti c'è bisogno di segnali vari estremamente precisi e l'Indream ha proprio questo uno dei vari compiti istituzionali di Indream è dare segnali orari estremamente precisi ora quando il segnale viene mandato c'è una perturbazione è perturbato dal movimento della fibra e quindi se la fibra si muove perturba allora hanno detto perché non utilizziamo il rumore per dargli del valore e questo nasce, il progetto nasce da qui Bain & Company si occupa dell'analisi dati sostanzialmente quindi il segnale è molto rumoroso è quello che stiamo cercando di fare utilizzare intelligenza artificiale e machine learning per ricavare il segnale dal rumore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti